salve a tutti questo è il coso, il video sv probleme tornati sul mio canale io sono Giuseppe Makeup Artist e vivo ad Amsterdam oggi terremoto qui decluttereremo cioè butteremo nella mondezza non capisco perché non chiamarlo così il fascino di dire invece di declutter buttiamo nella monnezza ma senti come pompa allora dicevo, questi sono i miei rossetti più vecchi ce ne sta qualcuno più nuovo infatti non lo butteremo ma diciamo che qui sono contenuti non tutti i miei rossetti ma quelli più datati e quindi li andiamo a vedere e molti di loro andranno nel cestino ovviamente con le mie mani presti di rigiribilizzazione vi ricordo iscrivetevi al canale like, commento e se volete c'è il gruppo Telegram dove possiamo cincischiare del più e del meno con tante altre disagiate come me bene quindi sconfiggiamo l'algoritmo e no in modo che tanti disagiati più semo e meglio semo io partirei con le nostre amate non più quanto meno questa manca il numero c'è stato Lip Lip Tint Stay Matte Ink di Maybelline Maybelline New York allora praticamente che cosa è successo adesso vi spiego a un certo punto mi è preso il matto ho detto no le voglio tutte perché diciamo quando ero giovane perché queste robe sono così vecchie quando ero giovane l'importante era che il rossetto restasse su tutto il tempo necessario senza dare problemi invece adesso che mi sono fatta un po' più vecchiarella mi piace proprio l'experience di mettermi più volte al giorno ma quando più volte al giorno il rossetto quindi addirittura prediligo i i i i i bullet no i lips allora quindi partiamo da questo allora qualcuno già è andato qualcuno dei veramente più vecchi già è andato perché a qualcuno l'ho regalato qualcuno già l'ho buttato però diciamo che allora questo sicuramente è uno dei più anziani allora visto che comunque sono appucciata è un po' che schifo dopo che passano degli anni è questo questo l'ho usato ma sapete quanto zero questo è il numero dieci allora io adesso questi qua non li so portare più perché sono veramente sconfortevoli sono appiccicosi sono mortali e quelli allora questi più vecchi devo dire ancora resistono cioè durano bene durante la giornata e non si tolgono quelli leggermente cioè che come di c'è la prima ondata e poi c'è una seconda ondata di compere da parte mia la seconda ondata reggono molto peggio comunque e quindi se ne vanno via a pezzi quindi non c'è nemmeno più diciamo il lato positivo quindi abbiamo il numero dieci il numero quindici il numero quindici è il mio color cioè è stato uno dei miei colori preferiti in assoluto e avrei messo solo quello poi abbiamo ah questo questo pure quante volte l'ho messo tantissime volte io non ci vedo come faccio cioè allora questo è il mio rosso è bellissimo il mio rosso freddo blu rosso blu è bellissimo ma sei vecchio e te ne devi andare poi che c'è questo qual è non mi ricordo più questo secondo me è quello caldo quante mani ci vorranno non lo so questo è il rosso caldo infatti l'ho messo pochissimo penso forse una volta senza numero perché questo non ci fa paura però vabbè poi cosa abbiamo qui allora questa è la prima ondata mi pare ah no ci sono questi tre questi qua questi invece li ho presi dopo fammi vedere sono finiti i Maybelline facciamo questi qua sì mamma mia questo che disagio poi bello aspetta facciamo prima questi qua quindi questo qui invece l'ho messo abbastanza 65 perché comunque su di me è veramente un nude pratico everyday everyday nude molto bellino questo qua pure è diciamo il parente del 15 come di come come nudità su di me è insomma uno dei miei colori prefe 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 e poi c'è il 70 questo ho messo un po' meno perché comunque c'è stato il periodo del color nocciola però su di me non è un gran che però devo dire che continua a piacermi questo colore anche se insomma non è che mi sta benissimo e poi c'è questo qua il 95 che questo forse rimane perché comunque è un color di questi che vanno adesso quindi questo forse rimane gli diamo un altro un altro paio d'anni di vita e poi abbiamo il 75 anche questo nocciolato aranciato eccolo qua ma c'è una differenza scusate adesso io devo vedere penso di sì perché comunque ecco qua questo è più aranciato questo è più rosato che cacca poi abbiamo il numero 60 questo l'ho messo un sacco di volte sto proprio nudino questo è proprio vedo non vedo quando allora perché io quando non metto il rossetto ho le labbra proprio cioè sembro malata perché non non c'è il colore di vita no e quindi anche solo questo mi dava più poi 130 che si unisce alla scuola dei rosettini carini no sì però più 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 vabbè insomma nella mia testa funzionava così e poi questo è il 435 che come di tra quelli che c'erano che era tipo un'uscita estiva era quello che mi piaceva di più ma in realtà non mi piaceva manco tanto questo è il più nuovo di tutti non è male non lo so se perché tanto poi non lo metto vabbè cioè diciamo che gli diamo altro paio di anni di vita no perché poi su di me è tipo fluo sto colore boh vabbè lasciamo qua allora e poi il blu questo come di non mi viene mai di buttarlo perché dico ma che fai butti il blu ma sei pazza e infatti rimane fatti il blu eccolo qua blu 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 vabbè però come dire già hanno fatto una vera roba di monnezza di qua ah no c'è questo no vabbè questo raga questo è fluo questo è fluo ma non per scherzo è davvero allora questo è bellissimo però non lo metto mai perché è veramente cioè poi su di me mmm mmm però è figo è figo adesso passiamo altrettanto anziani ma che mi sono piaciuti di più come profumazione come come experience di indossaggio di indossamento sono i come si antitolano non me lo ricordo più non mi ricordo più come si chiamano questi non mi ricordo più basta finiti allora aspetta devono essere tipo le cioccolà cioccolà di l'oreal e le macarons le macarons le cioccolà le macarons le cioccolà allora le cioccolà avevano questa particolarità che ognuno aveva un profumo di di cioccolato delizioso e i colori super cool super cool e io ovviamente perché erano quei marroni e io ovviamente ho detto no li devo avere troppo tutti però a differenza dei i maybelline mi duravano un po' di meno e poi sempre quella scomodità dell'appiccicume tu dici ma questi li potresti tenere visto che questo è tipo un grege e robe così è vero ma come di non li uso perché sono veramente scomodi e basta poi sono passati tanti anni ed è il momento di lasciarli liberi guardate che bel punto di rosso diciamo che questo è rosso vedete questo diventa quasi fucsia quando si asciuga questo invece resta questo rosso vibrante no questi sono proprio formulati meglio secondo me non lo so mi sono piaciuti tantissimo e poi ci sono invece le macarons che sono colori un po' più estivi e ovviamente c'è il nostro amico rosino eccolo qua non può mancare quanti sordi quanti sordi cioè se tu pensi no 10 era la volta qua siamo arrivati arriviamo a 200 in un attimo questo ma li fanno ancora questi mica mi ricordo non vi sto dicendo i numeri perché allora questo è l'834 tipo non lo so tipo terracotta chiaro 834 questo invece era 864 questo che era questo era questo 860 862 l'altro marrone e il greger 858 ma cioè non ve li comprate ma adesso fanno dei rossetti liquidi così comfortabli debolissimi 832 e questo amo visto no questo sempre rosso però più fragola più strawberry perché appunto sono estivi sono maccaroni e sono cioccolati però sempre questo profumo inebriante inebrioso e poi c'è stata l'ondata di questi scuroni sempre di Maybelline aspetta che ce li ho ce li ho ce li ho ah no ce n'ho mancato uno ce n'ho mancato uno eccolo qua questo è bellissimo perché è veramente scuro tenebroso un bel marrone quasi quasi black è bello lo puoi tenere dai non mi tentate sono vecchi sono vecchi allora e questi qui pure madonna per trovarli perché non era facile allora questo è il 255 super stay matte ink però è una special edition limited special e questo vediamo se somiglia a qualcuno un po' più nocciola neutro bello pure questo poi il 265 questo è più rosato mi pare andiamo no allora questo somiglia secondo me a questo qua sì cioè vedete che che coiote ugly che sono e poi c'è questo che era proprio rossone scuro bello oh guardate qua che bello marron glacé no però ho finito le mani metto qua bello questo bello proprio come di i colori sono molto belli li terrai pure se non fosse che dici ma allora perché non butti pure quello quello blu e quello così eh c'hai ragione in effetti in effetti eh però poi se voglio fare qualcosa di particolare non c'ho niente di blu scuro ah l'indecisione l'indecisione via via tutto via via ASMR fastidioso e rumoroso qua trema tutto rica trema di tutto allora poi sicuramente butterò questo che c'ha mamma mia è vecchio come il cucco sto coso aspetta e faccio vedere basta butto anche questo non so questi due se tenerli forse li tengo dai solo questi due sono particolari molto particolari allora un altro che vecchio come il cucco è questo oh sweetie e meno male che ne ho comprato solo uno perché mi piaceva così tanto che ho detto mo li compro tutti che è di mac e questo praticamente è un rosso glossato che quando si toglie il glosso rimane comunque tinta la parte e profuma profuma di caramelle schifezzerie molto carino però anche lui ciao passato tempo io capisco che i collezionisti si staranno mettendo le mani nei capelli ma io non ce la posso fare poi butto a malincuore perché sono abbastanza nuovi però su di me non funzionano assolutamente e mi fanno solo invocare santi del calendario quindi meglio buttarli a questo punto sono i vinilink super stay a parte se già si è scolorito qua vabbè di Maybelline sempre il nostro amico Maybelline sempre presente sempre presente che praticamente allora a parte che devo scegerare o devo mettere lo devo far asciugare i 20 minuti e in più se ne su di me se ne va in modo disomogeneo resistono sì perché per esempio un altro che ho comprato perché questi sono i rosati poi sono usciti tipo i marroncini e quello lì tipo ha perso è come se si fosse separata la formula all'interno comunque a me non piacciono su di me non mi piacciono io non so come fanno le persone a usarli sulle spose devo dire la verità perché cioè non credo di essere un caso unico sulla terra cioè cioè su di me se ne vanno a pezzi e sono scomodissimi ma come si fa a metterli su una sposa non lo capisco non sarò io che sono troppo eh troppo così però vabbè quindi via ciao poi io faccio proprio una grande pulizia allora questo di NYX le NYX lingerie sono bellissime è il rossetto che oh cioè questo rossetto l'ho usato tantissimo ed è il numero è finita la lavatrice per chi riconosce questo suono è il numero non lo so LX vabbè niente non c'è scritto e l'ho usato tantissimo perché long lasting comodo se ne va in modo omogeneo è bellissimo mi piace tantissimo e se non fosse che ho 45 milioni di rossetti da finire lo riutilizzerei poi butto questo di Revolution perché è estremamente secco a parte il colore che non mi piace ma è estremamente secco il colore si è di quelli lì che ci devi mettere la matita scura intorno però a quel punto visto che comunque sto scomoda preferisco mettere un rossetto capito come metto un rossetto di questo colore e mi viene anche meglio la fusione no tipo Vegeta poi mi piange il cuore perché madonna raga quanto ho amato questo rossetto io penso che tutte noi dai dite la verità ce l'avete questo c'era il periodo che andava il rossetto terracotta e questo non so quanti anni fa erano secondo me erano più di 6 forse 8 non lo so comunque questo e poi il profumo madonna Too Faced lo vendono ancora da Douglas il periodo di Natale ed è bellissimo poi questo qui non so se si vede comincia a diventare rossastro sulle labbra mie almeno quindi parte terracotta però poi si inrossisce sempre di più ed è bellissimo sulle labbra il problema è che su di me tipo mi va un po' sui denti migra migra un pochino non è molto stabile però è bellissimo poi mi piace proprio il pack è proprio bello allora questi qua molto belli potrei tenerli per ricordo in effetti che comunque sono una cosa così particolare e ho capito che è finita la lavatrice forse li tengo li metto nel cassetto dei ricordi dai però teniamoli poi butto perché tanto ho buttati sordi con queste cose butto queste di madonna quanta roba che c'è ancora qui eccola qua queste di L'Oreal che essendo meno stain quindi come di meno che si tolgono più facilmente questa me l'ha regalata Alessia no questo me lo tengo me l'ha regalata Alessia eccola qua però il problema è che se ne vanno molto più facilmente non sono molto confortevoli e e come si dice è come se tipo questo più chiaro la formula si fosse un po' rovinata non lo so sono strani e non li uso e quindi basta cioè mi hanno scocciato va vedi no non puzzano questo qua poi ovviamente io sempre alla ricerca di quello un po' più marrone non so se dargli un'altra chance proviamo dai riprovo poi se mi rifa schifo lo butto allora no questo è nuovo questo pure è nuovo oddio questo lo butto riga aspetta questo lo butto che è quel robo che tu che ci volevo fare un contenuto mi sa quello sulle labbra ce l'ho fatto il contenuto quel robo che poi si asciuga fai peel off e resti tinta made in china questo dura io penso che questo cioè tu muori te lo porti nella tomba ti ritrovano dopo 200 anni e questo funziona ancora lo dico io perché questo è tipo il crystal ball il crystal ball ci puoi sperare crystal ball ed è una roba oscena è una roba oscena cioè per tu per tingerti le labbra ma veramente ce vuole sto coso non credo non credo però sai a quei tempi qualche anno fa si portava perché era ci facevi il contenuto divertente sfizioso però io poi alla fine non è che ce li ho mai fatti cioè mi sono solo lamentata di averlo preso poi aspetta allora questo è nuovo aspetta questi nuovi li teniamo ah eccolo allora che vi dicevo come questo che è rossetto nero questo lo devo mettere in uso che stain un pochino c'è quelli ph neri questo lo devo mettere in uso vabbè aspetta questo lo mettiamo qua allora vabbè non tergiversiamo questo che cos'è sto robo ma un ombretto liquido ah questo è il coso liquido labbra occhi o no made in non mi ricordo più catrice limited edition by tonight metallic eye shadow ah eye shadow madonna mia aggiungo e tiralo fuori cioè ma guarda io ho i metallic eye shadow e non li uso ah juicy juicy roba qua ah questo l'ho preso perché se tu lo sfumi fa tipo l'effetto naturale sulla palpebra di luminoso sì mio cervello questo è nuovo no questi non li butterò mai sono i i creamy lipstick di cat cave d allora questi li abbiamo qua allora poi secondo me posso anche buttare questi due posso dirlo che sono sono usciti da un calendario dell'avvento penso ormai di dieci anni fa e sono dei gloss di revolution che bellini però io i gloss questi qui così devo dire li uso poco devo dire faccio fatica e quindi li buttiamo sto pure di che vi dì e lo tengo e lo tengo allora questo qui madonna mannaggia a me allora questo qui è stato di questo prodotto ha parlato benissimo Giulia Cova in tanti video che io quando all'epoca ero più fidelizzata e come di io super emozionata perché nuovo super emozionata perché che figo che figo allora a parte che per me è scomodo da mettere sulle labbra poi in realtà boh è morbidino se ne va via subito non vedo l'hype e niente quindi mi sa che finisce nel vc perché no non mi dice niente non mi apporta amore gioia e niente poi ci sono questi di NYX le Shine Loud che in realtà ne ho quattro sì allora io butto i nude perché li ho usati un po' di più e comunque come formula li preferivo tantissimo a quelle di Maybelline anche se c'è questa scocciatura che devi lasciarle asciugare e poi mettere la parte glossata come di ne posso fare tranquillamente a meno perché è passato tanto tempo questo si vede che l'ho usato di più e quindi ciao invece questi due li tengo perché comunque sono colori particolari e come sapete io ormai tengo solo i colori particolari allora come rossetto liquido mi è rimasto ma questo è nuovo è un gloss questi i classici ti butto dopo e allora questi due ne parlo sono in realtà la formula non mi dispiace perché sono di quelli velvet di quelli che vanno pure gli asiatici questi che fanno effetto che può sfumare effetto guardate vedete che non sono male come 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 idea guarda un po' non è proprio il mio tipo di rossetto ideale però non sono male l'unica cosa io ho trovato questi due colori non mi fanno impazzire nessuno dei due devo dire perché comunque allora questa formulazione queste formulazioni qua i colori più scuri è un attimo che si aggrappano e fanno un effetto brutto esteticamente quelli chiari invece sono danno una resa migliore però come di non sono la mia cosa non sono la mia cosa infatti per questo non ho mai preso quelli di Kaleidos per esempio oppure altri di Girl Cult che sono più moderni per chi segue l'indie Asian indie anche su Look Healthy Store e quindi compagna bella quindi ciao questo qua NYX allora questo perché mi ricordo e volevo provare Smooth e questo io penso sia sulla stessa ondata di quello là sì solo che questo qui è meno polveroso e quindi si stende più facilmente e non fa quell'effetto come faccio a vedere vedete c'è da dire che questo poi diventa più matt questo rimane invece sempre un pochino satinino allora io questo potrei tenerlo il problema è che è brutto non mi viene da usarlo so che sembra sciocco ma non mi viene proprio cioè preferisco mettere sempre un bullet il rossetto in bullet che una roba di queste perdonatemi e perdonato per portafoglio perdonami in realtà poi e siamo abbiamo finito c'è questo qua di Jeffrey Supreme Gloss ma che hai fatto hai preso il gloss rosso no allora Monolith ai primi ordini mandava anche i trucchi i trucchetti mandava i lipstick e infatti questo l'ho ricevuto con un ordine di monolith e questo qui se a me piacessero i gloss è il meglio gloss colorato cioè voi avete stata a vedere che poi allora dopo che Jeffrey ha fatto sto gloss che nessuno si è cagato perché comunque Jeffrey ormai è un po' un personaggio compromesso ne sono usciti di gloss così pigmentati ma questo è meraviglioso perché è iperpigmentato lucido non migra è una roba bellissima quindi se io fossi un appassionata di questo effetto avrei preso tutti e poi c'è anche colori molto particolari avrei preso i colori di questo qui dove si trovano mi sembra che ci stanno sia su Beauty Bay che su Bootsy Shop se non erro e quindi e forse ci sono anche da dai Jeffree Star pure da Glass questi pizzi quali li rivende quindi come dire non lo butto perché è proprio un bel prodotto poi è bello bello anche il pack non è plasticoso e quindi boh mi piace mi piace lo tengo anche se so che non lo userò e vabbè ah questi questi raga questi sono proprio allora questi mi piacciono aspetta vi faccio vedere sono di L'Oreal e sono dei rossetti matte però allora a me devo dire non mi piace tanto la forma questa del rossetto così sottilino infatti non so perché a un certo punto hanno sbroccato tutti sì facciamoli tutti così sottilini ma no non lo fate e quindi io ho detto no no belli ma proprio sulla stesura sulle labbra quel bell'effetto matte corpaccioso questo è il 603 e il 602 e poi di questi nuovi ho preso il 500 e il 600 anche se poi mi sono un po' pentita di questo perché io prima così ho dei pensieri no lo voglio più chiaro ci metto la matita intorno poi dopo mi rompo le scatole di rimettere mi rompo le scatole di mettere la matita intorno e quindi resto un po' fregata da queste mie scelte fatte così però questi sono tutti i colori che metto poi mi piace proprio la non mi piace il pack però mi piace eppure è bello come di al tatto sono di quelli di quelli carini non plasticoni ho questa questa roba al centro però però sono carini e me li tengo quindi niente allora mettiamo qua tutto quello che buttiamo e poi ditemi se sono stata brava o no perché io penso se non si usa basta cioè se non si usa e salina il cassetto così posso anche fare più spazio il cassetto delle palette dai sono stata bravissima guarda quanti ne butto dai bravissima tutto questo nella spazzatura addio Maybelline non mi avrai o se compro un altro rossetto di Maybelline mi dovete menà cioè ma proprio con la spranga per favore per favore giusi per favore e quindi vi ringrazio vi ringrazio di aver seguito il video fin qui se l'avete seguito fatemi sapere se avete questi rossetti come vi siete trovati cosa ne pensate se ho detto solo stupidaggini ho detto qualcosa di vero e ci vediamo nel prossimo video mi raccomando like e commento e battiamo l'algoritmo ciao ciao mi raccomando fate i bravi non troppo gravidi mozzi ciao